Mario Pacali, informatore vigevanese. Oggi è mercoledì 1 novembre, ci troviamo all'interno del cimitero urbano con il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa. Ecco sindaco, noi ci troviamo qui per questa giornata di ricorrenza, il ricordo dei cari defunti, ma anche per parlare della situazione del cimitero e soprattutto fare il punto dopo il nubifragio del 26 agosto che ha provocato ingenti danni in tutta la città, compreso il cimitero. Oggi il cimitero è aperto in tutte le sue parti. Sì, il cimitero già non solo da oggi, insomma già da qualche tempo è aperto in tutte le sue parti, però per arrivare a questo risultato ci è voluto un lavoro intenso, importante perché come ricordavi il cimitero è stato uno delle zone più colpite dal nubifragio della tempesta del 26 agosto. I danni più importanti sono stati probabilmente presenti proprio qui al cimitero cittadino, in particolare al cimitero centrale. Io devo ringraziare chi ha lavorato intensamente dall'assessorato, l'assessore Scardillo, il comandante Calcaterra, gli uffici dei servizi cimiteriali e tutte le aziende che si sono impegnate per arrivare a questo risultato. Ci ritenevamo particolarmente perché il cimitero deve essere in ordine e dignitoso nel rispetto dei nostri cari defunti, non solo nel giorno in cui li ricordiamo, tutti i giorni, però è chiaro che nei giorni di festa è richiesto un'attenzione ancora maggiore. Era importante riuscire ad arrivare a questa giornata nel poter presentare un cimitero in ordine in modo tale che chi viene a trovare i propri cari possa farlo in un ambiente dignitoso e ordinato. Quindi veramente ringrazio tutti per l'impegno che è stato profuso e colgo l'occasione per esprimere un momento di vicinanza e di ricordo a tutti i defunti e i nostri cari che ci hanno lasciati. Oltre agli interventi post nubifragio ci sono stati anche dei nuovi provvedimenti e delle nuove regole all'interno del cimitero? Sì abbiamo cercato con l'assessore e con il comandante di dare alcune regole di buon senso insomma per cercare di rendere un pochino più sicuro e ordinato il transito e il lavoro all'interno del cimitero. Poi l'assessore Scardino spiegherà magari nel dettaglio alcuni di questi provvedimenti che sono più che altro provvedimenti organizzativi. Abbiamo chiesto poi anche dal punto di vista manutentivo di prestare la maggiore attenzione possibile nel tenere ordinato il cimitero cittadino. Io ricevo spesso segnalazioni e quindi ho ritenuto che ci volesse un'attenzione ancora più importante da dedicare al nostro cimitero. Ringrazio anche le ditte che lavorano nel cimitero che certamente qualche disagio lo possono aver riscontrato nella gestione delle operazioni di posa dei marmi piuttosto che nelle operazioni durante i funerali o durante altre cerimonie all'interno del cimitero che possono aver creato qualche disagio. Io credo che lavorando tutti nella stessa direzione possiamo continuare a cercare di mantenere il nostro cimitero in ordine pulito e sicuro. Grazie signor Sindaco. Nicola Scardillo assessore ai servizi cimiteriali ma anche assessore alla sicurezza. Ecco il sindaco poco fa ci aveva parlato di queste nuove regole di tra virgolette gestione e soprattutto di accesso al cimitero. Assessore ci vuole illustrare nel dettaglio di cosa si tratta? Sì certo abbiamo cercato di dare un po' di regole che già c'erano però ultimamente erano un po' perse. Quindi con il dirigente Calcaterra in quanto anche lui dirigente qui al cimitero siamo riusciti a fare un regolamento in modo tale da condividere con sia i marmisti e anche i fioristi ma anche la società che fa le pulizie del cimitero di darci delle regole di ingresso soprattutto cercando di non disturbare il meno possibile le persone che vengono a trovare e quindi che si fermano vicino alle tombe a fare una preghiera per i propri cari far sì che sono lasciati tranquilli a poter fare questo. Delle regole che tutti hanno condiviso. Quindi Assessore chiedo scusa ci sono degli orari precisi per determinati accessi da parte delle aziende esterne? Sì la mattina ci sarà più la mattina ma naturalmente daremo delle deroghe di pomeriggio se il lavoro è molto corposo quindi ci sarà le regole ma tutti quelli che lavorano all'interno saranno seguiti dai nostri dipendenti quindi saranno accompagnati all'interno e cercati di fargli lavorare in sicurezza soprattutto e disturbare il meno possibile. si arriverà anche all'ultimo ad avere delle macchine elettriche quindi in modo tale che chi entra per fare dei lavori soprattutto chi fa manutenzione utilizzerà delle macchine elettriche da dare meno disturbo alla gente che si ferma a fare una preghiera per i propri cari. E con queste macchine elettriche saranno acquistate dal comune o dovranno essere le ditte ad avere questi mezzi? No no sono le ditte che lavorano all'interno del comune che avranno questi mezzi ma per ora parliamo solo della ditta che è la DR che lavora come manutenzione che sta tutta la giornata quindi saranno le ditte. Un'altra cosa che stiamo facendo è la sicurezza. Infatti stavo arrivando a questa domanda mi ha anticipato Sessore purtroppo il cimitero è anche teatro di parecchi episodi di scippi, furti, aggressioni le cronache locali lo hanno dimostrato anche recentemente. Sì questo succede soprattutto nella parte diciamo oltremora ma in accordo con il comando di polizia locale abbiamo messo delle pattuglie che girano sia di mattina che di pomeriggio fisse quindi alcune volte dando delle idee delle signore quindi di metterle in borghese quindi abbiamo delle pattuglie che controllano la vigilanza sia esterna che interna e finché arriveremo un giorno spero presto con l'amministrazione di mettere le telecamere quindi di avere una sicurezza all'interno del cimitero. Grazie Sessore.